All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il giovane polacco Eugenius Slavomir Lazovski, appena laureato in medicina, probabilmente era felice di iniziare a esercitare la sua professione, ma non poteva immaginare che il suo contributo avrebbe salvato migliaia di persone, circa 8.000, durante il conflitto che cambiò per sempre il corso della storia. Allo scoppio della guerra, Lazovski fu arruolato come tenente medico nell'esercito polacco per operare su un treno ospedale della Croce Rossa. Fu fatto prigioniero dai tedeschi e internato in un campo per prigionieri di guerra, ma riuscì a scappare scalando il muro di recinzione e prendendo a prestito un cavallo lasciato incustodito. Lazovski tornò a casa sua, a Rozwadov, dove di fatto iniziò a combattere la sua guerra privata contro gli occupanti nazisti. Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi affrontiamo un argomento drammatico come la malattia in tempo di guerra, ma lo facciamo parlando di una storia praticamente dimenticata, una storia che ha davvero un grande significato e che ci racconta molto delle zone occupate dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima di cominciare, un paio di comunicazioni di servizio. Dato che me lo chiedete in tantissimi nei commenti, le magliette che indosso le trovate su Pampling e questa mi è appena arrivata ed è bellissima, mostra Gandalf su un piano cartesiano che blocca una funzione esponenziale gridandogli You shall not pass! Tu non puoi passare! Vabbè, magari esaltano solo me queste cose, ma mi è piaciuto un sacco. Ringrazio tantissimi che hanno fatto l'ordine con il codice Vanilla perché così avete dato a me del credito per portare nei video nuove grafiche e fra l'altro ci avete guadagnato un paio di calzini omaggio. A giugno avete ordinato qualcosa come 125 fra prodotti vari, gadget, maglie eccetera, quindi nei prossimi mesi porterò un sacco di grafiche nuove. Seconda comunicazione. Ricordatevi di lasciare un commento con quello che pensate sul video e con dei suggerimenti per argomenti futuri. Stanno diventando degli spunti preziosissimi per arricchire l'offerta culturale del canale. Dove non arriviamo noi arrivate voi, ecco. A fine video, se vi è piaciuto, spaccate quel pollice in su dei like e cliccate sul tasto iscriviti se ancora non siete iscritti. In tutti questi modi aiuterete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. Grazie mille. La casa di Eugenius Lazowski era adiacente alla recinzione che divideva la città dal ghetto dove le precarie e malsane condizioni di vita favorivano il dilagare di molte malattie. Nessun medico era però autorizzato a curare gli ebrei. Lazowski aggirò il divieto con un semplice sistema di comunicazione. Quando qualcuno nel ghetto si ammalava, legava uno straccio nella recinzione, così durante la notte il dottore sarebbe entrato per fornire cure e medicine. Per evitare che i nazisti si accorgessero della sua attività clandestina, Lazowski gonfiava sui registri la quantità di farmaci usati per i suoi pazienti non ebrei. Nel frattempo il dottor Stanislav Matulewicz, concittadino, ma anche amico e collega di Lazowski, aveva fatto una scoperta interessante. Inettando batteri inattivi di tifo in una persona sana, questa non avrebbe contratto la malattia né mostrato alcun sintomo, ma un campione del suo sangue sarebbe risultato positivo al test. I due medici compresero che quella scoperta avrebbe consentito loro di salvare molte vite giocando sui timori di contagio che angosciavano i nazisti, dopo che il tifo aveva ucciso molti soldati in trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Le autorità tedesche in Polonia avevano ordinato a tutti i medici di segnalare i casi sospetti e conclamati di tifo, inviando campioni di sangue ai laboratori controllati dai nazisti, dove sarebbero stati sottoposti ad appositi test. I polacchi ammalati venivano messi in quarantena e quindi non inviati nei campi di lavoro, ma gli ebrei venivano immediatamente giustiziati tramite fucilazione. Alla fine della guerra i due medici scrissero Quando molti casi venivano segnalati da una stessa zona, l'autorità sanitaria tedesca la dichiarava un'area epidemica. Questa situazione ha prodotto molti vantaggi per la gente, perché i tedeschi erano inclini a evitare tali territori e la popolazione era relativamente al riparo dalle atrocità. Matulewicz imparò ad effettuare da solo i test per il tifo, per cercare di mantenere segreti i casi di contagio tra gli ebrei, e allo stesso tempo capì che una persona a cui erano stati iniettati batteri inattivi avrebbe prodotto gli stessi anticorpi di un vero malato, dando così un risultato falso positivo al test. Lazowski spiegò in seguito. Era chiaro che questi falsi positivi potevano essere utilizzati come una forma di difesa dalle politiche del governo di occupazione tedesco. Utilizzando i risultati dei test si poteva far credere ai nazisti che a Rozwadov e nei dintorni fosse in corso un'epidemia di tifo. Matulewicz testò la sua scoperta su un conoscente che, come altre migliaia di polacchi, era stato inviato in un campo di lavoro tedesco. L'uomo aveva ottenuto un permesso di due settimane da trascorrere a casa ed era disperato al pensiero di dover ritornare al campo. Non poteva fuggire perché sapeva che per ritorsione la sua famiglia sarebbe stata internata in un campo di concentramento, praticamente una condanna a morte. L'alternativa era il suicidio, oppure contrarre una grave malattia attestata da un medico. L'uomo accettò di farsi iniettare i batteri inattivi di tifo. Poi un campione di sangue fu inviato ai laboratori tedeschi, che lo dichiararono positivo al test. La cavia non dovette tornare al campo di lavoro. Iniziò così una serie di vaccinazioni fittizie che risparmiarono molte persone dalla prigionia dei nazisti. Lazowski, sapendo bene quanto grande fosse il timore dei tedeschi per questa malattia, che come abbiamo detto prima ne aveva uccisi moltissimi durante la Prima Guerra Mondiale, studiò un piano per diffondere una falsa epidemia di tifo in Polonia. Poteva così evitare che i nazisti li facessero prigionieri, preferendo tenerli isolati. I due medici lavorarono in segreto, non informando nemmeno i loro pazienti del trattamento cui li sottoponevano. Rivelarono la loro impresa soltanto nel 1977, in una lettera inviata alla Società Americana per la Microbiologia. Per non insospettire troppo i tedeschi, mandavano molti pazienti già vaccinati da altri medici che si occupavano di consegnare i campioni ai laboratori nazisti. I due medici in seguito scrissero «Presto, il numero di casi segnalati era sufficientemente grande per far dichiarare la zona, circa una dozzina di villaggi, un'area epidemica, con relativa libertà dall'oppressione». Con tutta l'area in quarantena, anche il ghetto ebraico divenne off-limits per i tedeschi, peraltro sicuri che la malattia avrebbe sterminato i confinati al loro posto. Lazowski aveva vinto la sua guerra personale contro gli invasori, rischiando la vita. Ma verso la fine del conflitto, i nazisti divennero sospettosi, perché nell'area epidemica troppe poche persone morivano di tifo. Lazowski, che già in precedenza era riuscito a ingannare una delegazione di medici tedeschi venuti a controllare, portandoli in una stanza sporchissima dove erano riuniti falsi malati ancora più sporchi, a cui i nazisti non vollero avvicinarsi, fu messo in allarme da un soldato tedesco che aveva precedentemente aiutato e riuscì a scappare a Varsavia con la famiglia. Per inciso, nemmeno le moglie dei due medici sapevano che l'epidemia di tifo era falsa. Lazowski decise di svelare quel segreto a sua moglie solo nel 1958, dopo che si erano trasferiti negli Stati Uniti, ancora temeva ritorsioni. Stranamente la donna non sembrò troppo sorpresa, e un motivo c'era. Sapeva bene che il marito collaborava con la resistenza polacca, perché anche lei ne aveva fatto parte, prima dell'inizio della guerra, tanto da aver scambiato diversi messaggi segreti con il marito all'insaputa l'uno dell'altra. Senza mai combattere con una pistola o una spada, Lazowski aveva comunque ottenuto un risultato considerevole. Nel corso di tre anni, molti ebrei polacchi si rifugiarono a Rozwadov, dove non correvano il rischio di essere scoperti dai tedeschi, e molti polacchi non furono inviati ai campi di lavoro. In tutto furono circa 8.000 le persone che si salvarono grazie ai falsi batteri del tifo. Negli Stati Uniti, Lazowski, che era diventato professore in pediatria all'Università Statale dell'Illinois, scrisse anche un libro di memorie intitolato La mia guerra privata, e fu dichiarato giusto fra le nazioni dallo Stato di Israele. Come molte altre persone che avevano messo a rischio la propria vita durante il nazismo per salvare quelle di altri innocenti, Lazowski tendeva a minimizzare il proprio operato, l'unica volta che tornò in Polonia a 87 anni dove fu accolto come un eroe disse. Stavo solo cercando di fare qualcosa per la mia gente. La mia professione è salvare vite e prevenire la morte. Combattevo per la vita. Grazie a tutti.